Buongiorno cari amici, oggi vorrei leggervi un versetto dal Vangelo di Luca, capitolo 16, il numero 10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Oggi vorrei parlarvi dell'importanza delle piccole cose. L'altro giorno mentre navigavo tra le notizie di un noto quotidiano online sono stato incuriosito da una storia che in realtà non ha nulla di eccezionale. Il gesto esemplare di un bambino di 11 anni che dopo avere rovinato la pianta del vicino con una pallonata ha scritto un bigliettino di scuse e ha anche lasciato 5 euro per rimborsare il danno. Qualcuno incuriosito ha fotografato questo bigliettino e lo ha condiviso sui social network raccogliendo in pochissimo tempo migliaia di commenti positivi. Per molti si tratta di un episodio che lascia sperare per un futuro migliore. Un piccolo gesto di educazione di questo bambino, di civiltà, in perfetta armonia con gli insegnamenti morali più nobili e diciamo anche la verità in armonia con quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Da un punto di vista giornalistico questa notizia forse non è una grande notizia. Anche noi in queste breve riflessioni del mattino del caffè biblico raccontiamo delle storie vere, delle storie forti, delle storie eroiche, commoventi, delle imprese sportive, delle storie che hanno fatto il giro del mondo, ispirato film, libri, canzoni. E quella di oggi probabilmente è una storia così piccolina che già la gente l'ha dimenticata. Ma invece noi la vogliamo considerare perché ci dà l'occasione di ricordare un principio fondamentale del Vangelo, il principio delle piccole cose che parlano delle grandi. Chi è fedele nelle piccole cose saprà esserlo anche nelle grandi e non viceversa. Chi non butta un pezzetto di carta per terra state sicuri che domani non getterà un materasso in mezzo alla strada. Chi si preoccupa di pagare sempre il biglietto del tram, state sicuri che si preoccuperà anche di pagare le imposte. E così chi si preoccupa di mettere un bigliettino con il suo numero di telefono sul tergicristallo della macchina dove appena ha portato un graffio a una portiera per rimborsare il danno, potete star certi che quella è una persona onesta. Questo principio è un principio che vale non soltanto per i soldi, per i borsi, spese però, è un principio che vale per tutto. Chi per esempio è abituato a dire in continuazione delle piccole bugie potete star certi che è in grado di dirne anche delle grandi. E così via. Gesù dice chiaramente che Dio giudica la nostra fedeltà non da quello che appariamo ma proprio da quelle piccole cose dove nessuno ci vede e apparentemente di nessuna importanza ma che rivelano chi siamo veramente. Un principio importante per affidare degli incarichi di fiducia anche nella Chiesa è che prima ognuno sia provato nelle cose minime. E se tutti lo applicassero, diciamo la verità, non soltanto la Chiesa ma probabilmente il mondo sarebbe migliore. Ho sentito una storia interessante di un nobile signore dello scorso secolo che per provare la fedeltà dei suoi collaboratori domestici, i collaboratori che assumeva lasciava volontariamente in giro per casa una piccola banconota da 500 lire che equivalgono pressappoco a 25 centesimi di oggi. Una cifra insignificante rispetto alla ricchezza di quella casa. Se il domestico gliela riportava lo lodava e lo assumeva. Se invece se la prendeva e se la teneva era solito dirgli, caro amico, non ti posso assumere perché la tua fedeltà non vale neppure 500 lire. Ed allora, per finire, l'invito di oggi qual è? È quello di dare la giusta importanza alle cose minime dove ci è richiesto di essere fedeli, onesti, leali, sinceri, impegnandoci e dando a queste cose la giusta importanza. Perché da queste cose minime noi dimostreremo chi realmente siamo e da queste piccole cose non soltanto gli uomini ma anche il Signore ci valuterà. E detto questo ti auguro una buona giornata, un buon caffè e che il Signore ti benedica.